Discesa e poi ritorno. Il Casarano in versione a Luna Park, su da sette camice per aver ragione del Santa Maria Cilento ultimo in classifica, ma con una prova d'autorità riesce a portare in Salento l'intera posta in palio. Grande reazione degli uomini di la terza dopo il doppio vantaggio campano, a lungo sul 2-4, prima che il gancio di Catalano e l'occasionissima di Bonfini rievocassero vecchi fantasmi. Out Raikovic tocca nuovamente a Diop, regge del peso dell'attacco, sostenuto da Corvino, Citro e Jonai. In mediana c'è Marconato a fare le veci di Dalena accanto a Cerutti. Nel Santa Maria Cilento pesa sulla classifica un grosso problema offensivo. Solo due reti segnate nelle ultime 13 giornate. Nel 3-5-2 di Esposito parte dalla panchina catalano. Con Gaeta c'è Borgia. Nessuna fase di studio. Diop prova a superare Cannizzaro, ma l'ho balto. Non senni in casa da metà dicembre il Santa Maria Cilento. Tabù spezzato al nono. Quando Coulibaly irrompe prima di tutti in area di rigore, facendo vibrare le corde vocali del pubblico del Cagano. Dopotempo immemore. Poca cattiveria nell'attacco del Casarano. Citro di testa manda alto. È cinico come non mai il Santa Maria. Fa tutto Gaeta. Sterza sull'Egittimo, cogliendo il tocco col braccio del difensore. Rigore solare. Pucci para. Gaeta sulla respinta. Non sbaglia una seconda volta facendo 2-0. È più combattivo che mai il Casarano. Corvino, da lontano, c'entra in pieno la traversa a Cannizzaro battuto. Sembra la fotocoppia del match di Angri, ma non è così. Giannini, puntuale all'appuntamento sul secondo palo, accorcia le distanze con un inserimento perfetto. Partita ripresa, poco più tardi, su situazione da corner. Cannizzaro, indeciso dall'uscita. Qua sta macchia non deve neanche saltare per fare 2-2. Squadre lunghissime e partita bella. Nel recupero, i cilentani provano a rivettere il naso davanti, ma la fuga di Nunziante termina sull'esterno della rete. Inizio di ripresa di marca Casarano. Corvino depista un paio di avversari, ma non è la sua giornata. Altro legno. La rimonta si completa all'ora di gioco. Nunez, crossa da destra. Cannizzaro, pasticcia nuovamente. Diop, a porta sguarnita, non può veramente sbagliare. 2-3. I campani sono sotto shock. Citro recupera palla. Corvino, a giro, questa volta non trova sulla sua strada alcun montante. Palla sotto l'incrocio e 4-2. Non è affatto arrendevole il Santa Maria. Dentro, anche Catalano, che dà subito un saggio delle sue qualità. Sfera sul fondo, ma bella giocata. Soluzione simile è quella di Di Fiore. Determinante, in questo caso, una deviazione. Il Casarano si fa trovare scoperto in contropiede. Gaeta fugge in superiorità numerica, ma ignora Catalano, calciando alle stelle. Non fortunato, lasse Catalano-Gaeta. Il primo calcia. Il secondo, col tacco, non riesce a correggere in rete. Gli uomini di Esposito, evidentemente, non possono fare a meno di Catalano. All'ottantaseesimo, prende palla, rientra sul destro e fulmina Pucci là dove non può arrivare. 3-4 e campani vivi è un passo dall'apoteosi nel recupero. Bonfini elude le larghe maglie salentine, ma da due passi, grazie a Pucci e tutto il popolo casarano. Vincono gli uomini della terza, ma che fatica. Consolidato il piazzamento playoff, ha più 5 sul Matera, ma l'obiettivo è salire in classifica. Santa Maria Cilento bene, ma ora si fa davvero dura. Nel prossimo turno, Casarano-Gallipoli e Angri-Santa Maria Cilento.